Allora cari amici, che mi state scrivendo e ponendo una questione estremamente precisa, penso di potervi rispondere che arriverà un comunicato ufficiale sulle vicende che riguardano il nostro Marcello Chirico, per cui non vi posso dire nient'altro, capisco che qualcuno su Tele Lombardia stamattina abbia, come dire, si sia espresso in determinati modi, noi lo faremo in via del tutto ufficiale prestissimo, per cui non posso né confermare né smentire perché non ho nessun tipo di delega in tema, ma saprete presto se le notizie che vi sono state date con un comunicato ufficiale sono vere oppure voci di corridoio. Ci vediamo tra poco. Che a Tele Lombardia hanno detto che Chirico è andato via e vogliono saperne di più. Silvia dice, hanno diritto di saperlo. Hanno diritto di saperlo. Credo che gli ascoltatori, poi c'è un altro. Anche perché non è più ospita. Stamattina su Top Planet Lombardia ho sentito il rappresentatore Dallò che Marcello ha lasciato il gruppo Mediapason, mi ha lasciato di stupo, non lo vedremo più a Top Land. Buongiorno, Gian Piero da Crema. E poi c'è un altro. No, ne ho uno prima. Ah, ecco qua. È vero come gira su Twitter che Chirico avrebbe lasciato il gruppo? Boh, tre mi hanno chiesto. No, prima o poi dovremmo dirlo, è che è fuori dai coglioni. Grazie. Grazie.